ATTRAVOR Mamma e Papa Pig hanno appena trattato una pipa a Peppa e Giorgio Peppa ha dei p***i rossi sul velo Oh, proprio Peppa, novi. Non preoccuparti, chiamo il dottor Brownman. Vengo immediatamente. Tira fuori la lingua. Vengo... Il dottor Brownbear è venuto. L'irritazione passerà in fretta, ma se tu desideri potrai anche... Ti un po' di questa me... Sì. Non paghiamo l'affitto. Dai cazzo, siamo negri noi. Io non paghiamo l'affitto, 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 io non paghiamo l'affitto.